Il termine ultimo dell'atto integrativo di due anni fa è scaduto esattamente ieri. Come abbiamo già riferito, l'accordo di programma per l'area di crisi complessa è addirittura ad arrivo ma senza aver generato gli investimenti ipotizzati. Sia dal Ministero delle Imprese sia dagli uffici regionali nelle scorse settimane hanno fatto sapere che l'intenzione di rinnovare questo strumento, che è ancora in pancia, non meno di 21 milioni di euro da destinare ad investimenti alternativi a quelli di Eni. La prossima settimana torna a riunirsi il gruppo di coordinamento e controllo. L'amministrazione comunale attraverso il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone ha già partecipato alla riunione tenutasi in settembre. Il tavolo della prossima settimana potrebbe dare contezza effettiva del rinnovo e delle condizioni per le proposte di investimento. Dopo due avvisi coordinati da Invitaglia, solo un progetto ha visto la luce nel secondo step ancora in essere, sono cinque le proposte in istruttoria e una ottenuto tutti sì per il finanziamento. Per il resto, nient'altro, il senatore Pietro Orefice interrogando il governo nazionale sollevò una forte denuncia contro i ritardi e le troppe disfunzioni della legge 181 che detta le regole per la concessione degli stanziamenti. Il sindaco Di Stefano a sua volta ha parlato di un territorio lasciato al proprio destino senza neanche uno sportello locale per le imprese interessate ad investire. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, che insieme ad una delegazione è composta anche agli industriali di Sicindustria, ha incontrato il ministro Adolfo Urso, ha dato garanzie per il rinnovo e per la prosecuzione dell'accordo di programma sulla carta esteso ad oltre 20 comuni nell'area di crisi, ma con risorse finanziarie comunque non così ampie. Per non perdere il treno degli stanziamenti coperti con fondi del governo nazionale della regione, sarà necessario il rinnovo dell'accordo cercando di renderlo veramente alla portata del territorio di una finestra concreta di sviluppo.